va meglio? non ho dormito a casa non mi chiedi cosa ho fatto? dove sono stata? dove sei stata? ho dormito a casa di uno mi chiedi chi? no, non te lo chiedo sei un vigliaco ma perché dici così? fai tanto il superiore ma che ti credi di essere? sono stata con franco franco? si quello del locale che tra parentesi mi fa pure che schifo mi dispiace per te dai picchiami avanti forza che fai? non picchi la donna che ti fa le corna per favore dai sei ingornuto ma che dici? ma che dici? sono una troia sterile attempata che sta con un coglione con le spermatozoi mosci che schifo che schifo di vita ma che fai? non ci vai a lavorare? vuoi che chiami io per avvisarli? federica se vuoi possiamo riprovarci possiamo andare in spagna in olanda dov'è che andavano quei due? a klagenfurt andiamo a klagenfurt facci te e restaci meno tutte che ti까요? grazie a tutti